Buonasera, allora veniamo stasera ai libri Gioros, sono dei libri eccezionali, io quando ho iniziato l'attività di trading ho iniziato a studiare su questi libri, sono stati quindi i primi con il quale sono venuto a contatto. Il primo in assoluto è stato dei trading perché mi fu consigliato, fu il primo libro che presi ed è anche il libro al quale sono più affezionato perché è stato il punto di partenza per fare le cose in un certo modo. Quindi quando qualcuno mi domanda, mi consigli un libro per iniziare l'attività di trading, per cominciare a capire questa cosa, dico sempre guarda inizia con un libro, con questo libro che si chiama dei trading di Gioros. È un libro che contiene moltissime informazioni, ok? Moltissime informazioni che sono utili sia per iniziare a capire come funziona il mercato, ok? Sia per capire come funziona il mercato, sia per capire l'approccio mentale che bisogna avere per fare trading in un certo modo e poi spiega, nel libro spiegato, come leggere un grafico, come impostare un'attività di trading, come scegliere per esempio l'intervallo temporale rispetto all'attività che si va a fare. Poi Gioros spiega una serie di report, insomma una serie di storie, che è una cosa che lui fa anche negli altri libri e fa anche durante i corsi. Io ho partecipato l'anno scorso al corso dei trading di Gioros a Lugano ed è stato anche quello un corso molto interessante. Anche durante il corso lui ha raccontato delle storie, perché queste storie che racconta sono utili per capire come determinate persone hanno incontrato le problematiche e come le hanno risolte, ok? Oppure che una determinata strada porta determinati problemi. Allora questo è determinante per capire rispetto a quello che si sta facendo se il binario è quello corretto o meno e se c'è bisogno di una deviazione. Quindi il libro è secondo me di grande utilità. Non è un libro che parla specificatamente di Forex, anche se all'interno parla di un'attività di day trading che si può fare sul Forex, ma lui parla nel libro di trading, ok? Poi ognuno nello specifico si studia il mercato sul quale ci si vuole specializzare e si fa trading, ma gli argomenti, la sostanza, il frutto che c'è nel libro vale per tutte le attività di trading, ok? Quindi come si interpreta un grafico a barre, come ci si deve approcciare mentalmente, l'approccio imprenditoriale, come si gestisce il capitale, quindi la gestione del capitale, come si costruisce una metodologia di trading, quindi una strategia, i segnali, quindi quale opportunità vado a prendere per lavorare. È possibile lavorare sia sul breve termine, breve periodo, l'intraday, o multiday, quindi lungo termine, quindi come spiega anche lui nel libro, dice voi lavorate, vi decide di lavorare o sul breve periodo, quindi concentrato l'attenzione sul day trading, o fare multiday, quindi l'attività di lungo periodo, o fare tutte e due sapendo i vantaggi e gli svantaggi delle due attività, no? Questo per capire che il trading può essere svolto con approcci sostanzialmente diversi, ok? Vediamo un po' qualche parte interessante. Ah, sempre attraverso questo libro io ho conosciuto per la prima volta, ho sentito parlare per la prima volta di Richard Dennis. Richard Dennis che è stato uno dei trader più grandi, importanti che abbiamo avuto nella storia, e da questo libro io ho letto che lui racconta una storia di suo prozio, Harold Goodman, il quale praticamente molto tempo fa faceva trading seguendo le tendenze primarie, faceva una newsletter per aggiornare i suoi iscritti sulle tendenze primarie, che parliamo veramente di molto tempo fa, e Richard Dennis, questo grandissimo trader che poi ha fatto grandi fortune, insomma, negli anni 60-70, se ricordo bene, praticamente era iscritto la newsletter di questo prozio di Geross che, insomma, in quegli anni probabilmente la pubblicava, penso la spediva per posto, insomma, chiaramente non esistevano i mezzi elettronici di oggi. E c'era una cosa che questo prozio spiegava, insegnava, insomma, che era molto importante seguire le tendenze primarie, tenere l'occhio sempre sulla tendenza primaria, perché seguire le tendenze primarie garantisce variazioni di mercato più ampie e un lavoro, appunto, su variazioni di mercato che durano nel tempo, no? Quindi più ampie e anche duraturi nel tempo, quindi questo dà un vantaggio strategico. E infatti Richard Dennis è stato famoso per i suoi risultati, lui faceva trading proprio alle rotture delle congestioni nella direzione delle tendenze primarie e seguiva queste tendenze, insomma. Quindi probabilmente se nella storia c'è stata questa grande attenzione verso le tendenze primarie, probabilmente c'è un buon motivo. Allora da lì ho iniziato a capire questa cosa, ho iniziato a studiare di più la struttura delle tendenze, le tendenze primarie, determinare le direzioni attraverso le tendenze primarie e seguire le opportunità che possono dare una continuazione della tendenza, una continuazione più ampia della tendenza. e questo è uno dei tanti elementi che ci sono all'interno, ecco, come le lucettine che hanno acceso in me la curiosità nell'andare a scavare ulteriormente e trovare ulteriori informazioni per approfondire sempre di più. Lui appunto parla, pagina 17, day trading, opposition trading, trading, position trading, trading di posizione, quello multi day di lungo termine, no? E ci sono tante informazioni, poi c'è la legge dei grafici, quindi come si legge un grafico a barre? Ecco, un elemento importantissimo perché noi quando leggiamo un grafico leggiamo la direzione della liquidità, il comportamento della liquidità, ok? Infatti lui spiega la legge dei grafici, spiega dei pattern, degli schemi di prezzo, uno di questi è il famosissimo Rossouk, ok? Che è un pattern di trend, cioè che indica una fase di tendenza, ok? E indica, il pattern indica un comportamento specifico della liquidità che è in grado di produrre una continuazione della tendenza entro poche barre, ok? Se non viene invalidato, chiaramente. Se il mercato quindi rispetta le regole di questo pattern, è in grado di produrre una continuazione della tendenza entro poche barre. E questo è un altro strumento molto importante perché dà un vantaggio competitivo, ok? Mi ha scritto un ragazzo sul blog o su Facebook, forse su Facebook era, in questi giorni obiettando il fatto che io consigliavo questo libro, insomma, io consigliavo questo libro, no, no, era un post proprio sul libro dei trading. Qualcuno mi ha commentato dicendo sì è un libro che però alla fine trovo tutto su internet perché devo spendere 150 dollari, 150 euro, insomma, è un commento critico. Ecco, io risposto a lui, non mi ricordo con che parole, insomma, ma rispondo sempre allo stesso modo dicendo guarda, il libro è un libro eccezionale, se tu hai tempo da perdere per andarti a cercare le cose su internet, ammesso, tu rieschi a trovare su internet questi contenuti perché troverai sicuramente la spiegazione del Rossuc, ma non troverai lì sempre di Geross, non troverai le storie che spiega Geross, non troverai tutta una serie di elementi, allora io mi domando, uno che vuole fare trading, se lo vuole fare veramente, lo vuole fare seriamente, certamente non si ferma di fronte a 150 euro di libro, perché se vogliamo dirla tutta, se uno vuole iniziare l'attività di trading, certamente deve fare uno sforzo da questo punto di vista, come minimo deve acquistare dei libri, no? Perché non si può pretendere, lo dico non perché ho interesse a farvi comprare i libri, perché io non è che ho una relazione con la struttura di Geross, ci conosciamo, ma non è che io ci guadagno qualcosa se consiglio i libri, né a loro cambia qualcosa, insomma, perché poi comunque la mia attività è una piccola nicchia, insomma, in questo mondo, quindi non è che cambia cambia qualcosa, il problema è che cambia se voi scegliete una strada che secondo me è una buona strada, cioè la strada che porta a studiare questo tipo di contenuti, allora decidete di fare i trading, benissimo, uno, due, tre libri servono per cominciare a capire l'attività, non è che uno compre il libro, perché il deluso della situazione è quello che ha scritto, questo commento farà parte sicuramente, come molti altri che mi hanno scritto nel corso di questi anni, di quella categoria di persone che compre il libro e pensa che è arrivato alla fine del libro, diventa esperto di day trading e tutto quanto, eh ma come mai ho letto il libro, sono arrivato alla fine ma non so fare ancora un cazzo, ok, ma il problema qual è? Che non è colpa del libro, è colpa di chi lo legge, perché io le cose che ho letto qui su, le ho lette la prima volta e onestamente non le ho capite, ma non è che era il libro a non essere capace, ero io a non essere, non era il libro a non essere buono, ero io che ero incapace a capire quel tipo di cose, nel corso degli anni l'ho letto, riletto e ancora lo leggo per ritoccare determinati argomenti, e questo mi è di grande utilità e a distanza di anni poi ho imparato, ok, ad applicare determinate cose che ho preso da questo libro perché come dice anche lo stesso Gioros, il trader capace non cercherà di applicare quello che io faccio alla lettera, cercherà di prendere quello che c'è in questo libro e cercherà di adattarlo al proprio trading, ecco questa è una cosa molto importante, questo è stato un altro insegnamento che io ho tratto dal libro e che mi è stato di grande utilità, cioè non cercare di copiare quello che fanno gli altri, ma capire come funziona il mercato, prendere delle idee e poi implementare qualcosa di proprio. Allora, l'ingenuo è la situazione che pensa di prendere il libro e arrivare alla fine e diventare esperto, eh ma come ho speso 150 euro, voglio essere garantito che divento uno scienziato, è come prendere il libro di Einstein, la teoria della relatività, arrivare a leggere, arrivo alla fine e non ho capito la relatività e quindi Einstein ha scritto un libro del cazzo. No, il problema è che io personalmente non ho letto il libro e non ho capito nulla, ma non è il libro che tratta un argomento senza... No, i contenuti sono di ottima qualità, ma sono io che non sono in grado di capire la teoria della relatività, perché è proprio una cosa, insomma, mi sono incuriosito, ma mi rendo conto che c'è un limite. Allora, se voglio diventare, come dire, voglio conoscere quel tipo di argomento, devo andare molto più a fondo. Allora, se questo vale per la vita e per qualunque tipo di argomento, deve valere anche per il trading, ok? A me piace moltissimo suonare la chitarra, per esempio. Ecco, una cosa che adoro. Non riesco a dedicarmi tanto perché devo lavorare, ho un sacco di cose di lavoro che mi piace anche fare, quindi, no, è un'altra passione, spero un domani di poterla tramutare in qualcosa di più serio, ma come anche il lavoro, per me è una passione, però è chiaro che il lavoro include anche tutta una serie di impegni che vanno portati avanti e mi piace anche portarli avanti, mentre se devo mettere qualcosa da parte è proprio la chitarra, la musica, no? Perché mi piace farlo, ma in questo momento non è un'attività primaria, no? Quindi vedremo in futuro. Ma anche la musica, se mi metto lì e ho difficoltà a eseguire dei pezzi, non sono i pezzi, no, ma sono io l'esecutore che non è in grado, ok? Quindi prendo un libro per capire un argomento e francamente ho difficoltà. Allora so che non è che c'è un limite, non riuscirò mai a capire quella cosa, semplicemente devo andarci più a fondo. Per andarci più a fondo c'è bisogno di tempo, impegno, studio e tutto quanto. Quindi tutto quello che ci serve noi ce l'abbiamo. Il punto è che spesso nel trading si pensa di poter prendere la scorciatoia, no? Ho preso il libro, sono arrivato alla fine, ma com'è? Non sono diventato esperto. No, il punto è che bisogna andare semplicemente più a fondo. Il libro dei trading, solo per quella che è la mia esperienza, è sicuramente un ottimo punto di partenza, per spiegare le cose che sono di grande utilità, ok? Ma anche frequentare per esempio i corsi. Cioè il corso Lingeros è bellissimo, ma nessuno deve pensare ingenuamente di arrivare al corso, fare il corso due giorni e si diventa esperti. Io l'ho fatto il corso, determinati argomenti li ho capiti, altri argomenti non li ho capiti. Ma non è che sono gli argomenti, no? Sono io che mi sono segnato tutto, mi sono ripromesso di mettermi a studiare tutti questi argomenti per integrarli poi nel mio trading, no? E quindi anche in quel caso si fa il corso che dà tanti elementi per studiare e poi vanno elaborati e migliorati, no? C'era Marco che diceva, diceva libro non basta, bisognerebbe anche frequentare il corso. Certo, più ampli, più vuoi ampliare la tua competenza in quel settore, più cose fai meglio, eh? Libro, corso, tutto quello che ti pare e poi però ci deve essere un impegno che poi tu metti a casa, ha prolungato nel tempo perché nulla avviene così, no? I libri sono uno strumento per ampliare quella conoscenza e bisogna, molti di voi lo sapranno meglio di me perché magari avete studiato all'università, ecco io per esempio all'università non ho studiato, ho cominciato a lavorare molto giovane, quindi chi è stato all'università, non so quanti di voi, sa che studiare è molto importante, no? Quindi è lo stesso vale per il trading, insomma, non è una materia che richiede meno competenza, anzi se vogliamo anche più impegno di quanto non serva per le altre attività. Nella legge dei grafici, tornando ai contenuti del libro, Geroz spiega il Rossuc, che è un pattern veloce che consente una ripresa del trend entro poche barre ed è un pattern eccezionale, semplicemente perché si verifica molto spesso nel mercato. Poi spiega anche il gruppo l'inside, che lui lo chiama l'edge, trading range, che sarebbe una congestione, che è poi il pattern 1, 2, 3, quindi altre formazioni. Ogni formazione indica un comportamento della liquidità, in base ai comportamenti che si verificano, noi possiamo agire in un certo modo. Io quando ho letto questo libro ho capito questa cosa e ho sfruttato questo concetto per migliorare poi la mia attività. Quindi come vedete, non è che il libro vi mette tutto lì, poi voi li elaborate e trovate ulteriori indizi, ulteriori idee. Tutto questo, almeno per quello che riguarda la mia esperienza, è arrivato con il tempo. Quindi è uno strumento di lavoro, questo libro, e tu lo prendi, lo apri, lo studi, poi lo riprendi il mese prossimo, settimana prossima, il giorno dopo, e ci trovi altre cose, ci ragioni sopra, ci mediti su una determinata parte. Io così uso lavorare. Per esempio ci sono anche altri libri, più vecchi di questo qua, che danno gli stessi vantaggi, insomma. Ecco, per esempio qui spiega il comportamento della barra di trend. Io quando ho detto, ok, ma questo comportamento della barra di trend è così prevedibile, dico, è mai possibile che non me l'era venuto in mente prima? Ebbene, ce l'avevo ora avanti, però non me ne ho reso conto. Non me ne ho reso conto. Ok? E poi, vabbè, tutta una serie di questioni interessantissime, insomma, degli esempi. Poi i segnali di entrata che lui fornisce, chiaramente non è che uscerete questi segnali di entrata, perché poi il trading nel frattempo e il mercato nel frattempo si è cambiato, insomma, si è evoluto. Cioè, determinate cose del libro dove riuscirete a usarle e altre andranno aggiustate, ma comunque sono dei punti di partenza ottimi quindi punti di partenza ottimi per fare il primo passo e capire, ok, si conduce in questo modo l'attività di trading, si costruisce in questo modo un segnale di entrata a mercato. Poi parla dell'entrata Trader Tricks che è l'entrata che poi uso anche io con tutte le formazioni che hanno uno spazio interno, ok? Lui la spiega per quello che riguarda il Rossuc e questa è la tecnica interessantissima perché lui spiega, tra le tante cose che spiega, che serve per anticipare gli istituzionali perché gli istituzionali agiscono sul mercato per trovare liquida, supporto, ok? Per sviluppare le tendenze esposte nei prezzi oltre determinati punti, ok? Quando si lavora con questa tecnica si è in grado di anticipare questa cosa, si lavora in anticipo, si sfrutta appunto questa dinamica in modo che se il mercato poi non sviluppa la tendenza perché non c'è liquida, supporto, si è comunque potuto portare a casa un profitto per un'attività in trading, ok? Questo è molto interessante. Da questa pagina qui, capitolo 7, io ho trovato tante informazioni, tante idee per approfondire, per capire come gli istituzionali lavorano, ok? Perché Giorgio Osso spiega questa cosa. Come le formazioni con lo spazio interno possono dare un margine di vantaggio. Perché oltre ai punti chiave cercano liquida, supporto, insomma, veramente tante cose. Quindi c'è chi legge questo libro, dice, ah, niente, roba, qualcuno mi scrisse una volta, tutta fuffa, no? Per bene non so neanche che significa, insomma, ma probabilmente tutto fumo, qualcosa del genere. Invece per me è un pozzo senza fondo di informazioni, ce ne trovo sempre, e mi fa piacere di, come dire, riconsultarlo, ok? Quindi ognuno semplicemente racconta la loro esperienza, magari chi lavora con un approccio essenzialmente diverso probabilmente non è in grado di percepire quello che c'è c'è all'interno. Ecco, parla dal capitolo 16 di atteggiamento mentale, e poi a pagina, ancora molte cose, ma facendo un salto a pagina 296, parla del metodo del vero trend. Ecco, questa è un'altra cosa interessantissima. Metodo del vero trend, e lui fa una simulazione su carta spiegando come va condotta l'attività, ok? Ecco, e tutta questa parte, oltre a pagina 296, è stata anche questa, una parte molto importante, perché io da lì ho capito come doveva essere condotta l'attività, quali sono le problematiche che incontriamo, quante spese, come dire, possiamo tollerare, ok? Intanto vi metto una pagina del blog qui, Day Trading, Gioros, perché c'è un video interessante che vi consiglio di vedere, tornando a noi. E questa simulazione, quindi, mi ha fatto capire come praticamente andava condotta l'attività, quante spese, come bisogna faticare in determinati punti, che poi come il mercato ci premia quando sviluppa una tendenza più ampia, più veloce, e che questo capita ciclicamente, sempre, ok? Quindi non è che, quindi l'importanza di un lavoro continuato, insomma, veramente tante, tante informazioni. Vi invito a leggere il libro, leggete la prima parte, poi passate a pagina 296, vi leggete questa simulazione, ok? E poi riprendete il libro dove l'avete lasciato e lo completate, ok? Perché questa è la parte che veramente mi è piaciuta moltissimo e ancora ogni tanto quando voglio ritoccare quell'argomento, voglio risentirlo, vado lì, me lo rileggo, me lo riguardo, mi guardo le mie sottolineature, i miei appunti ai margini del libro per capire un po', per rivedere quell'argomento, ecco, è come rivedere un vecchio amico, insomma, e questo è il primo libro, Day Trading, poi la naturale continuazione è l'altro libro che si chiama Il Trading con il Rossuc, ecco qui, questo è Day Trading e trovate nel mio blog, in home page, lo trovate, come vi ho fatto vedere prima, questo video fatto dalla struttura di Gioros, che sul loro sito non sono riuscito a trovare un'altra volta, ma lo potete trovare nel blog, ok? Poi, se andate nella pagina di Trading Educators, è qui che conviene prendere i libri, inutile cercarli su Amazon, qui vedete Day Trading, poi Trading con il Rossuc, che è la naturale continuazione, dove un libro intero è dedicato al pattern del Rossuc, che è veramente molto utile e molto interessante, e lui in quel libro fa tanti esempi, spiega diverse cose, e poiché il Rossuc è un pattern di continuazione, che consente una ripresa di Eterni entro poche barre, è formidabile conoscere quelle dinamiche, conoscere, non dico tutta la verità su questa cosa, no, conoscere la sua esperienza su questo pattern, perché dovete sapere che lo stesso pattern è stato anche scoperto da altri soggetti che gli hanno dato nomi differenti e che hanno semplicemente riconosciuto quella dinamica ripetitiva nel mercato e l'hanno studiata, e gli hanno dato nomi differenti, ma stiamo parlando della stessa identica cosa, quindi noi attraverso i libri di Geross studiamo l'esperienza di Geross riguardo a questo comportamento del mercato che si è sempre ripetuto e continua a ripetersi e quindi no, ditemi se una cosa del genere non vale il tempo che il tempo a ridicare è 150 dollari, no? Io non è che sto facendo la promozione, no? Che forse può sembrare questo, no? Voglio dire, a me sono stati utili e allora mi domandano che libri dobbiamo prendere e io consiglio sempre questi qua, ce ne sono molti altri, infatti durante le prossime sessioni, due o tre sessioni, voglio parlare un po' di libri e poi continueremo con i nostri argomenti pianificati. Poi il trading come business, questo qui invece è un libro che parla dell'approccio mentale, quindi l'approccio a business e anche questo è di grande utilità perché dovete sapere che la tecnica è importante ma è molto importante l'approccio mentale. senza un approccio mentale adeguato potete avere tutte le tecniche che volete ma non andate in nessuna parte. Quindi bene, si studia il mercato, come si comporta, tutte le tecniche che volete ma poi senza un approccio mentale non si va in nessuna parte. quindi ecco uno strumento per fare questo per migliorare l'attività all'approccio mentale è sicuramente questo libro Training come business e su questo argomento è certamente il primo libro con il quale sono venuto a contatto. Ce ne sono degli altri non di Gioros ma di altri autori sono molto molto buoni anche quelli e ve ne parlerò durante le prossime sessioni. da qualche parte ci deve essere la possibilità per iscriversi alla newsletter e ricevere via email giorno dopo giorno credo settimana dopo settimana i capitoli del libro TNT4 di Gioros sempre. Non so dove sta però questa possibilità di iscriversi quindi navigate voi nel sito e vedete ok? Comunque il libro TNT4 non so se qui c'è è anche molto interessante io ce l'ho qui TNT4 si chiama i trucchi del mestiere Gioros e Mark Cherlin e alcune cose sono ripetute ok? come anche saranno ripetute tra il libro dei trading e il trading con il Rossuc però ci sono poi molte altre cose interessanti insomma sia tecniche sia approccio mentale ok? infatti qui vedo nel su TNT4 il la tecnica camelback che ha riportato anche sul sito ultimamente money management il trading è un'arte la gestione di stop e insomma vedo un po' di altre cose insomma che francamente non ricordo bene perché un po' di tempo che non lo apro rilevanti segnali intraday un due tre bande di bollinger ecco idee una serie di idee che si possono andare a prendere e chiaramente vanno poi non è che uno prende il libro e poi le padroneggia queste idee immediatamente ma sono dei punti di partenza per qualcosa di più grande insomma quindi i libri sono strumenti di lavoro formidabili quindi senza libri non si va a nessuna parte in qualunque settore quindi chi dice chi commenta e dice eh i libri perdete tempo non buttate i soldi sì ma se non buttiamo i soldi sui libri in che cosa li vogliamo buttare insomma ecco questo io mi domando anche vi ho spiegato la mia esperienza con con la musica anche con la musica se non ci studia la musica anche sui libri la teoria musicale tutto quanto come si fa a padroneggiare uno strumento insomma è un'ovvietà insomma e lo dico insomma è un'ovvietà deve essere un'ovvietà per molti anche per quelli più scettici insomma bene io questo vi volevo raccontare settimana prossima vedremo un libro di Murphy analisi tecnica dei mercati finanziari e anche in quel libro ci sono molte informazioni per studiare e capire le attività di trading ok poi vedremo successivamente i libri di Van Tarp che sono molto interessanti anche quelli ottimi strumenti di lavoro e poi i libri di Larry Williams quindi facciamo quattro sessioni sui libri e poi riprendiamo i nostri argomenti quindi oggi abbiamo visto i libri di George Ross settimana prossima Murphy libro di Murphy poi vedremo i libri di Van Tarp che per esempio la maggior parte dei libri di Van Tarp trattano unicamente l'approccio psicologico dovete sapere che i migliori libri di trading non parlano di come si entra al mercato non parlano parlano di come va strutturata l'attività parlano di come conoscere meglio il mercato ma non ti dicono entra qui invece il neofita cerca il libro che dice entra qui ok in genere i libri che dicono entra qui non sono i libri buoni i migliori sono quelli che spiegano il mercato spiegano l'approccio e tutto questo infatti i libri di Van Tarp sono ottimi ma non dicono mai entra qui ok e poi vedremo alla fine i libri di Larry Williams c'è uno in italiano che racconto sempre insomma e poi ce ne stanno anche alcuni in inglese uno in particolare dove lui racconta la sua esperienza per un'attività insomma che ha svolto più volte per portare un conto da 10.000 a 1.000.000 e in questo libro lui racconta tutta questa attività fatta sulle commodity ok a tratti interessanti si raccolgono idee altre parti sono un po' pesantucce insomma poi in inglese ho avuto difficoltà a capire tutto ma questa storia è comunque interessante per sapere di più ok ragazzi buona serata se avete domande anche chi sentire la registrazione o se avete voglia di commentare insieme questi libri fatemi sapere ok basta che mi iscrivete ciao a tutti buona serata